Mi trattengo se serve. E freccia rossa per tornare. No, sì, perfetto, abbiamo capito la meccanica, fatto. Allora, ci diceva ieri sera il professor D'Averio, riflessione importante, che come italiani disponiamo di un'eredità importante. Ho distinto quello che diceva lui ieri, probabilmente abusando, spero non sia in sala così non potrà replicare, che probabilmente il patrimonio culturale è parte, non si sente? Esatto, un po' più vicino ancora. Ancora più vicino, lo mangio, è rosazio. Il patrimonio culturale appartiene all'Italia, questa è la mia impressione, è la cultura in eredità che riceviamo come italiani. E in questo la sensazione che ho è che probabilmente il patrimonio è lì, non lo curiamo particolarmente, ma è fermo. E quindi servono i sindaci tipo quello che abbiamo visto oggi, che secondo me è da clonare, che ci aiutano a tutelare la cultura in termini di patrimonio. Ma sta a tutti noi preservare e trapassare l'eredità che riceviamo. Pensiamo, avevo in mente un esempio banale, che è quello dei mestieri degli artigiani. E scusate, riporto il tema dalla cultura all'impresa, all'intrapresa. Abbiamo piccoli imprenditori, abbiamo artigiani, che secondo me sono quel modello di eredità di cui il professore parlava ieri sera. E che noi stiamo perdendo. Oggi tutti noi sappiamo che se andiamo a cercare un ciabattino, un idraulico, un piccolo falegname, è un problema, non lo troviamo. Probabilmente in questo territorio, nell'Italia del sud, con dei grandissimi valori, forse ancora si è preservato un po' di questo valore, ma certamente nell'Italia del nord, dove da romano trapiantato vivo da tanti anni, devo dire che non è più così. Non è più così e probabilmente abbiamo perso parte di quella cultura. Tanti anni fa studiai i distretti industriali e le imprese italiane che li abitano e approfondi il tema sull'internazionalizzazione. Purtroppo era 30 anni fa. E mi resi conto di quello che era il valore. E lo ricollegherei a quello che ci diceva stamattina il professor Padoan. Cioè, quando parliamo delle comunità e della nostra cultura, la sommatoria della nostra ricchezza diventa materia tangibile. Se facciamo il passo di metterle insieme, tante e piccole, e otteniamo un valore immenso. Ecco, questa è l'Italia, questi sono i valori dell'Italia, questo è quello che ereditiamo. E a questo punto, secondo me, è fondamentale quello che dentro questa magnifica sala, in cui ringrazio il Presidente, ringrazio Andaf da avermi dato il privilegio di riuscire ad intervenire, tutti noi possiamo lavorare per cercare di migliorare la prospettiva. Perché come leggete un grande maestro, uno stratega, direi lo stratega del marketing vivente e della storia, Kotler, ci ha insegnato che vi sono due tipi di aziende, quelle che cambiano e quelle che scompaiono. Ecco, l'artigiano che non prende l'apprendista e non gli trasferisce il mestiere, passando da una persona a due persone cambiando, e il cambiamento è trauma e il trauma fa paura, non sopravvive, muore, scompare. Le nostre aziende, nelle mani delle imprese familiari, di varie dimensioni, anche grandi, e lo sappiamo bene tutti, scompaiono se non sono in grado di fare questo passaggio. Questo passaggio però ha un problema anagrafico. Vi racconto un aneddoto che è emerso in un incontro in cui, col Presidente, stabilivamo che ordine volevamo dare a questo intervento, e gli raccontai spontaneamente quello che mi è capitato circa un anno fa, rappresentando il mercato privato di Deloitte a vari livelli internazionali. Ero a Varzavia, in Polonia, presenziavo un incontro, sostanzialmente ero lì per, la dico male, rappresentanza, rappresentavo la struttura, e i colleghi locali stavano gestendo questo incontro. A questo incontro partecipavano, come sovente capita, dei clienti, c'erano degli imprenditori. La cosa che mi stupì era che c'era qualcosa che non capivo, di strano, di anomalo, perché c'erano tre o quattro soggetti e rappresentavano una comunità a cui non ero abituato. Non era un problema di lingua, non era un problema di cultura. Mentre andavo avanti e mi sono confrontato con i colleghi locali, ho capito cosa c'era di strano. La cosa strana è che questi imprenditori erano giovani, avevano 50 anni, dico giovani, io ho passato 50 anni, erano giovanissimi. Non c'era la classe imprenditoriale che abbiamo noi. C'erano delle persone che, inizialmente non mi spiegavo la ragione, rappresentavano una classe anagrafica che non è la nostra in termini di imprenditori italiani. La ragione era banale, era nella storia. Il muro di Berlino è crollato, l'hanno tirato giù per fortuna alla fine degli anni 90, nell'89, fino a lì non c'era impresa privata. L'impresa privata è nata dopo. E questo significa che gli imprenditori locali si sono cominciati a formare dopo, sono giovani, sono persone che hanno pieno vigore in questo momento e stanno rilanciando l'economia. Noi abbiamo una classe imprenditoriale che è nata nel dopoguerra in termini di attività e che oggi ha compiuto 80-90 anni e deve necessariamente passare il testimone, perché l'anagrafe è anagrafe per tutti. Quindi il fatto che noi si parli costantemente di passaggio generazionale, una banalità di cui sentiamo parlare tutti i giorni ormai, me ne occupo in prima persona, la si vede in tutte le salse, è una banalità, ma è un problema che ci riguarda. Abbiamo una classe di imprenditori che ha la necessità di passare il testimone e statistica uscita una settimana fa da un'analisi fatta da Quattro Punto Manager, un ente che ha fatto una ricerca, non sa a chi passare il testimone, perché il 75% si dichiara incapace di individuare management in grado di assumere il testimone. È gravissima questa cosa. È gravissima perché significa che il nostro sindaco, che ripeto, va clonato, se domani decide di andare in pensione, non sa a chi passare il testimone, spero che non sia così nel caso di specie, ma è quello che a livello di statistica stiamo riscontrando e è quello che è emerso dall'indagine che abbiamo fatto come Deloitte, che vado a presentarvi, nel momento in cui emergono dalla survey una serie di dati contraddittori che mostrano come l'imprenditore vorrebbe passare il testimone e per una serie di fattori, per lo più interni, non è in grado di farlo, non è pronto a farlo. E questo è molto importante, perché se seguiamo quello che ci dice Kotler, significa che quell'azienda non ha un futuro. Se ragioniamo sul fatto che le imprese familiari che rispondono a queste caratteristiche sono i due terzi delle imprese mondiali e l'85% dell'impresa italiana, 85%, capiamo immediatamente che diventa estremamente grave non curare il passaggio generazionale. Finora su cosa si sono basate le imprese? Si sono basate su una serie di caratteristiche che, lasciatemi dire, per nostra fortuna o sfortuna, erano nelle mani dell'imprenditore che è nato nel dopoguerra. Quindi è facile l'esempio. Ma noi oggi siamo in una fase di disruption che non abbiamo visto, che stiamo sperimentando da poco. La resilienza, la capacità di adattamento. Si diceva stamattina il lungo periodo come orizzonte temporale per l'assunzione delle scelte. L'attaccamento all'azienda, ai valori. Questo emerge dalle analisi che abbiamo svolto su un campione di 800 aziende a livello globale. 58 paesi con 50 imprese familiari italiane selezionate. È evidente questo. È evidente che ci sono certe caratteristiche. Ma solo una parte di queste imprese ha affrontato il passaggio generazionale. Una piccolissima parte, lo vedremo dopo nei dati. Questo significa essenzialmente che occorre affrontare quanto prima il tema del passaggio generazionale. Io stesso, mentre lo dico, sono consapevole della banalizzazione che questo concetto ha avuto negli ultimi anni. Ribadisco, lo sentiamo ripetere costantemente. Ma dobbiamo intervenire ed è purtroppo da qui che occorre intervenire. Perché è il management quello che occorre. Questa è la stratificazione delle aziende. Questa è la stratificazione del management. Il 50% delle aziende italiane ha management che ha scompiuto i 60 anni per la metà. Nei prossimi anni 2 milioni di imprese italiane considerate che le imprese italiane credo che siano 4 milioni, 4 milioni e mezzo. Ora è difficile oggettivamente dare il dato. Però quella è la dimensione. Significa circa il 50% del tessuto imprenditoriale italiano nei prossimi anni dovrà cambiare testa. È mostruoso pensare questo se l'imprenditore è terrorizzato di passare il testimone. Questo è il dato che emerge dalle analisi. Un terzo, una su tre delle aziende che affronta il terzo passaggio generazionale scompare. Significa che noi perdiamo, scusate, sopravvive. Significa che perdiamo due terzi delle imprese attualmente esistenti. È un impoverimento mostruoso a livello industriale, imprenditoriale e di tessuto anche sociale perché come si diceva stamattina l'imprenditore soprattutto mi viene da dire in una fase matura e in alcune fasi di start-up nelle nuove generazioni è generoso e questo fa bene al tessuto perché aiuta c'è il tessuto a crescere. I fattori critici paradossalmente vengono spesso dall'interno dell'azienda e il problema della continuità generazionale è dichiarato. La minoranza delle imprese e degli imprenditori italiani dichiara di essere pronta al passaggio generazionale. Questo paradossalmente nonostante un sostanziale allineamento delle strategie all'interno del corpo della famiglia. Cioè la famiglia dice in netta maggioranza ma noi tendenzialmente andiamo d'accordo. Il problema è che non riusciamo e non siamo pronti a passare il testimone. Guardate questo dato mostruoso. Oltre il 60% delle aziende intervistate ha dichiarato di non avere piani per la successione dei top manager a tutti i livelli. Non abbiamo un piano. Non è che è stato detto qualcosa di diverso ma non abbiamo un piano è abbastanza grave. Segnavo è sorprendente la consapevole come dire dimensione di incapacità. E poi in che cosa si tramuta? La prima risposta quella che ci ha dato l'imprenditore intervistato stamattina chiara è come vorremmo fare vogliamo passare il testimone a un familiare vogliamo la conduzione all'interno della famiglia. la seconda risposta penso che sorprenda a voi quanto ha sorpreso me è consapevole di non essere in grado ed è disposto a passare il controllo pur di vedere l'azienda sopravvivere che se vogliamo sotto un certo profilo è l'ultimo gesto di generosità perché lo sappiamo tutti per l'imprenditore l'azienda è il primo genito quante volte abbiamo visto trascurati i figli a beneficio dell'azienda il problema è che se è disposto ad accederla significa che è disperato non ha altre soluzioni ed è qui che invece dobbiamo intervenire perché come vedete non esiste una formalizzazione non esiste un piano le strategie nonostante abbiamo visto prima la lungimiranza sono di breve periodo ma dobbiamo intervenire noi come manager per far sì che maturi la consapevolezza che all'interno delle aziende intervengano processi di vogliamo definirli terziarizzazione a livello di soggetti apicali questa è l'unica soluzione perché se non passiamo dall'inserimento di soggetti terzi da mutualità da altri ambienti dalla capacità di darsi delle regole di smetterla di assumere decisioni in contesti informali durante la cena di Natale e di portare nei board i temi che vanno discussi non risolvendo il board in 15 minuti con la lettura di un verbale ma discutendo e prendendo le decisioni rinviandoli se occorre ecco fino a lì non riusciremo mai a capire che cosa occorre il nostro presidente ci ha dato io ogni tanto controllo del tempo il nostro presidente ci ha dato un obiettivo perché nella sua lettera ha scritto cosa possiamo o meglio dobbiamo fare oggi per essere pronti ad affrontare il domani ecco un tentativo di risposta secondo me esiste innanzitutto dobbiamo trasferire all'imprenditore la ferma convinzione che l'azienda può sopravvivere che non c'è bisogno necessariamente di cederla si può anche cederla è un processo al quale possiamo lavorare ma quell'azienda può diventare invece il fulcro di un diverso futuro che passa però dalla soggettività alla oggettività attraverso la spersonalizzazione della conduzione tutti lavoriamo con dei fondi ce ne saranno anche a sumo di presenti e sappiamo che una delle prime caratteristiche che qualunque fondo di investimento parlo del fondo perché essendo un soggetto che fa investimenti per definizione è il soggetto più preparato ad analizzarli e la prima cosa che fa è esamina se l'azienda è replicabile perché se deve ancorare l'azienda al soggetto che la conduce poiché il soggetto che la conduce per definizione non è eterno non può comprare qualcosa che ha un orologio a tempo innestato perché svanisce il valore spersonalizzare significa managerializzare significa che le persone dentro questa stanza devono andare dal proprio imprenditore quando hanno un'impresa familiare davanti e fargli presente che devono transitare da questo percorso perché questo percorso di separazione della famiglia dall'impresa ci porta a avviare processi di partnership joint venture industriali joint venture finanziari apertura del capitale a fondi a investitori finanziari al mercato dei capitali e non ultimo a favorire quel passaggio su cui abbiamo visto quella contraddittorietà che ha caratterizzato alcune risposte in cui l'imprenditore si dichiarava incapace di trasferire il testimone pur volendolo pur desiderandolo ai propri eredi ai propri familiari quindi anche in presenza di soggetti imprenditorialmente capaci non c'era la possibilità di andare avanti ecco il legislatore una volta tanto in questo argomento e qua perdonatemi un piccolo vezzo da tributarista d'altronde quello sono quindi non può non emergere l'origine il legislatore è stato forse più longimirante di tanti altri soggetti perché ci ha dato una norma intanto in questo momento e lo sappiamo tutti l'imposta sulle successioni e donazioni in Italia è da paradiso fiscale se guardiamo la mappa senza allontanarci troppo dell'Europa o anche ci confrontiamo con gli Stati Uniti ad oggi l'imposta successione e donazioni in Italia benché ripristinata è comunque di assoluto valore perché un costo che va dal 4 all'8% è qualcosa di sostenibile ma in questo caso signori ha consentito di ottenere un beneficio ulteriore quello di favorire il passaggio ai propri familiari in linea retta e al coniuge ma evidentemente se c'è un tema generazionale il problema non sarebbe risolto attraverso la consegna dell'azienda o attraverso la consegna del controllo dell'azienda per mezzo delle partecipazioni della maggioranza senza alcuna soggezione ad imposizione questo è straordinario secondo me è una norma della quale non si può non approfittare sono convinto che molti di voi conoscano questa norma qualcuno l'avrà applicata qualcun altro magari la prima volta che la legge ma teniamola presente questa norma è di grande favore aggiungo che se non ci sono le condizioni per ottenere nel quinquennio previsto il controllo da parte delle rede o piuttosto non si è in grado di passare il controllo la norma è comunque di favore perché il 4% viene applicato sul patrimonio contabile netto e voi sapete di che cosa parliamo oggi un'azienda italiana trova la vera ricchezza nel goodwill e quindi l'azienda fondata dalla famiglia nel momento in cui viene passata al 4% sul patrimonio contabile netto sostanzialmente è free of tax perché non ha un grande aggravio questo nel caso in cui non si riesca a utilizzare questa norma non entro per guadagnare tempo nei dettagli tali per cui la stessa norma è mutuabile con altri istituti quali il trust il patto di famiglia o addirittura più banalmente istituto che da sempre è presente nella nostra normativa codicistica la separazione tra nuda proprietà e usufrutto tantissimi imprenditori in questi giorni sto vedendo due casi si sentono molto più sereni se riescono a mantenere l'usufrutto recentemente la corte di secondo grado del Lazio ci ha aperto peraltro un'ulteriore finestra che ci dà la possibilità di separare nuda proprietà e usufrutto usufruendo di quella norma quella del passaggio generazionale favorito da non soggezione ad imposizione nei 30 secondi che restano vi faccio vedere un'ultima cosa che probabilmente conoscete ma ve la ricordo è fermo in Parlamento alle Camere dal 2015 un disegno di proposta di legge che prevede un innalzamento della liquota oltre i 5 milioni di euro dal 4 al 21 per cento è il momento di muoversi secondo me nel senso che bisogna farlo presente ai nostri imprenditori bisogna aiutarli a capire che cosa devono fare e secondo me le figure che possono aiutare l'imprenditore a capirlo sono dentro questa sala perché sono i CFO che dispongono del know-how per trasmettergli questo tipo di consapevolezza uscire da quella contraddittorietà e quell'enigma che altrimenti farà sì che come ci ha spiegato qualcuno due terzi delle nostre aziende scompaiano finito complimenti complimenti complimenti